La stagione turistica è appena partita e nelle 5 terre è già emergenza per quella che i sindaci dei tre centri rivieraschi definiscono un'invasione difficile da sopportare. Quello che altrove significherebbe una risorsa importantissima per l'economia, qui si sta rivelando un problema difficile da gestire. Perché tutto questo? La risposta arriva proprio dagli amministratori locali, non più in grado da soli di far fronte ad una situazione che potrebbe sfuggire di mano con tutti i rischi che ne deriverebbero. Il flusso disordinato dei turisti rischia di tradursi infatti in una sconfitta per tutti. Le immagini delle lunghe code delle stradine dei borghi rischiano di creare un danno di immagine enorme e di scoraggiare quei turisti che arrivano da tutto il mondo e che sono poi quelli che portano ricchezza. La parola d'ordine oggi è riuscire a gestire i flussi. I dati dicono che lo scorso anno nelle 5 terre sono arrivati circa 3 milioni e mezzo di turisti. Il treno ne ha scaricati circa 3 milioni. Mezzo milione sono arrivati con i battelli. Le stime prevedono per quest'anno un incremento del 10%, un numero di arrivi difficile davvero da gestire ed ecco perché è importante che il problema venga affrontato non solo dai comuni ma dalla regione e dal ministero dell'ambiente e del turismo. Un territorio unico al mondo ma al tempo stesso così fragile non ci sembra tenuto in quella considerazione che invece meriterebbe. Due esempi. Da 7 anni la via dell'amore, simbolo sempre insieme allo chacchettra di questo paradiso, è chiusa. Prima si dovevano trovare i soldi e nulla si è fatto. Poi i soldi sono arrivati ma guarda caso non c'è ancora il progetto. Eppure una via dell'amore aperta consentirebbe almeno per io maggiore Manarola di affrontare meglio la situazione dei flussi liberando un po' i due paesini oggi quasi soffocati ogni giorno dal gran numero di visitatori mordi e fuggi. Altro capitolo dolente la presidenza del parco. Per quasi due anni c'è stata vacanza. Oggi il presidente è stato finalmente designato ma non è ancora operativo. Il parco ha una funzione importantissima di coordinamento ma visto come sono andate le cose verrebbe da dire che il problema 5 terre poco importa ai governanti. Eppure questo piccolo ed esclusivo territorio si sta sempre più rivelando il volano trainante del turismo provinciale, regionale e nazionale. L'ospicio di tutti in questo momento è che finalmente regione e ministero scendano in campo per dare una mano alle amministrazioni dei tre comuni per continuare a far vivere preservandolo quelle 5 terre che non a caso sono diventate patrimonio dell'umanità. ...12 al 16,56%. ...100. ...